Ragazzi, così. Purtroppo quando ci sono i problemi, l'abbiamo visto in quell'articolo di Bruce Willis, l'abbiamo visto anche con Fedez e la Ferragni, le famiglie, quelle con i legami di sangue, devono essere uniti, perché questo è ciò che è importante. Perché forse quello è l'unico legame vero, ma non è sempre così.